Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, Mario Cusitore ha rivelato dettagli intimi su lui e la Dama Morena, cosa che poteva benissimo evitare e che ha creato imbarazzo e forti tensioni in studio Mario Cusitore è tornato ad essere uno dei grandi protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne Il Cavaliere, a pochi giorni dal suo ritorno nel programma, si è lasciato sfuggire qualche dettaglio di troppo sul suo rapporto con la Dama Morena ed ha generato l'ennesimo caos in studio La puntata in questione andrà in onda solo tra qualche giorno su Canale 5 ma dalle anticipazioni su ciò che è già stato registrato, sappiamo che Mario, durante una discussione con Morena a centro studio, ha confessato di aver avuto rapporti intimi con lei Ma il 40enne di Napoli è andato oltre, visto che ha svelato dettagli non richiesti di questo loro incontro Si è così scoperto che i due si sono appartati in auto all'uscita di una discoteca e lì è divampata la passione Di certo Mario Cusitore, con queste rivelazioni, ha dimostrato di non essere galantuomo Poteva benissimo mettere i dettagli anche per rispetto a Morena Questo comportamento di Cusitore ha fatto nascere un'accesa discussione in studio e le cose sono ulteriormente peggiorate quando lui ha pure svelato che la Dama ha lasciato nell'auto i suoi indumenti intimi Al momento non è chiaro se tutte le rivelazioni di Mario verranno mandate in onda Può darsi che in fase di montaggio la produzione decida di tagliare alcune scene, anche solo per rispetto a Morena e per non crearle ulteriore imbarazzo Per scoprirlo non ci resta che attendere la messa in onda della puntata Ricordiamo che Uomini e Donne va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle 14 e 45 alle 16 circa Le repliche invece, vengono trasmesse sulla 5 alle 19 e 40 e alle 23 e 15 In alternativa, sia su ITTV che su Mediaset Infinity si possono trovare non solo le puntate già andate in onda, ma anche molti contenuti esclusivi con tante curiosità sui protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti